allora con questo video voglio creare un elissoide io di solito gli elissoide li creavo con il loft poi vabbè il peso di questo elissoide creato con loft non era perfettamente perfetto non era al cento per cento perfetto allora tramite linkedin ho chiesto se qualcuno conoscesse un metodo diverso per la creazione dell'elissoide dopo un po di tempo mi ha risposto jimmy l'ingegnere jim kuz morales e mi ha dato una risposta che a mio avviso è geniale e che si avvicina al millesimo al valore teorico della densità dunque io ho ipotizzato di mettere come si dice un materiale con 7850 kg al metro cubo di densità ok e vado a costruire un elissoide con un semi asse di 40 millimetri un asse di 40 millimetri l'altro asse di 60 e l'altro asse del terzo asse di 160 millimetri il valore teorico dovrebbe essere attorno a 1578,336 e altro grammi allora adesso io provo a questo metodo come ha fatto appunto come mi ha insegnato l'ingegnere morales e provo a farlo allora vado qui ho fatto mio schizzo con un cerchio e ho tirato una riga vado su funzioni estrusione base rivoluzione vi dico voglio rivoluzionare solo questa parte tiro via funzione sottile l'asse di rivoluzione è questo e mi si crea una sfera una sfera che ha un diametro di uno ok a questo punto vado semplicemente a usare il programma la future scala e uso non scala uniforme ok scala non uniforme metto proprio la lunghezza degli assi dunque 40 sulle x 60 sulla y e z su 160 e 160 sulla z qua posso mettere origine o cero entro dove va bene anche origine schiaccio a questo punto zoom mi si crea proprio negli solide praticamente perfetto e adesso vado a valutare proprietà di massa vediamo se arriva che è un po bloccato ok ho fatto qui con opzioni ho messo proprio superiore a precisione massima e come vedete o un mille cinquecento settantotto virgola 336 e dunque è praticamente perfetto perché fino al millesimo è uguale dopo valore teorico qua era andava sotto 14 912 però noi possiamo andare opzioni vediamo usa le impostazioni personalizzate qui andiamo a vedere il massimo ok facciamo ok 36 ecco 36 e 618 invece il valore teorico è 614 dunque siamo molto 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 precisi ok a mio avviso questo metodo è geniale molto semplice stupendo la precisione della massa è incredibile molto bravo l'ingegner morales a mio avviso è molto bravo arrivederci alla prossima